Sudore, fatica, intensità massima per tutti e 40 minuti e questa la ricetta di coach Paolo Montena chissà se basterà quest'oggi per battere la Fortitudo Bologna benvenuti al Palasport di Via Vellaneda Cordenons è la settima giornata di ritorno del campionato DNG Under-19 di eccellenza la 3S Basket ospita appunto la Fortitudo Bologna siamo in diretta streaming su fwgsportchannel.com buonasera da Matteo Consonni, qui con me Luca Gelormini, ciao Luca ciao Matteo, buonasera a tutti i telespettatori di fwgsportchannel Luca abbiamo detto tanto sacrificio, tanta fatica, tanto sudore, può bastare oggi? sicuramente la scorsa partita a cui abbiamo assistito sudore, le lacrime della squadra di coach Montena sono servite vedremo se quest'oggi i cordenonesi riusciranno a replicare quantomeno per l'intensità giocata nella scorsa partita in questa fondamentale gara contro la Fortitudo Bologna Cordenons penultima in classifica, dodicesima posizione contro la Fortitudo che invece occupa l'ottava posizione in questo campionato andiamo a leggere i quintetti per Bologna il numero 24 Polbodetto, tra l'altro nostra vecchia conoscenza il numero 20 Pesino, il capitano, il numero 15 Lenti e il numero 16 Galassi mentre invece per Cordenons Brino, Malattia, Stolfo, Rizzetto e il capitano Bertola tutto è pronto allora per la palla due stavamo dicendo di Polbodetto, ha giocato anche nel sistema basket ha giocato a Rorai, poi nel 2013 si è trasferito proprio alla Fortitudo subito palla contesa vinta dalla squadra ospite che adesso in palleggio con Leonardo Candy top scorer della squadra con 16.3 punti di media partita va a ricevere Galassi ancora sotto canestro per Lenti prova a girarsi il centrone, due metri di altezza per lui si torna da Candy, Comodo, il jumper da due punti che non va rimbalzi in attacco di Lenti che va subito a subire un fallo andrà in un'età con due tiri liberi i rimbalzi d'attacco per la Fortitudo potrebbero essere un fattore Luca in questa partita bisogna assolutamente eseguire meglio il tagliafuori e impedire questo fondamentale tecnico agli avversari sì ragazzi di Cordenons non avevano difeso male in questa circostanza però come hai detto giustamente tu il dominio dei rimbalzi sotto le plance sarà sicuramente fondamentale e in questo caso Rizzetto e Bertola avranno un bel lavoro da fare ottimo lavoro proprio svolto nel situazione di rimbalzo da tiro libero adesso Stolfo cerca ancora Rizzetto in punta va con il consegnato per Malattia eccolo qui Filippo Malattia deve prendersi la sua adra sulle spalle qua tenta un passaggio improbabile per Rizzetto deviato in rimessa da fondo campo dal capitano della Fortitudo Pietro Pesino allora rimessa per Brino controllo difficile per Rizzetto palla persa allora prova a volare la Fortitudo in transizione eccolo qui ancora Candy cerca ancora una volta Pesino Pesino per Lenti in punta si torna da Candy è il leader offensivo di questa squadra lo sa Coach Montana raddoppio subito su di lui e si sblocca Polbodetto dalla media 3 a 0 per Fortitudo in questo inizio Stolfo va dietro la schiena ancora per Bertola rischio di frazione di passi però riesce ad andare fino in fondo la fine deviazione sarà ancora rimessa per Cordenons Cordenons è iniziato un po' un po' molle in questa partita Malattia passaggio difficile ancora ottima difesa da parte della Fortitudo di anticipo Luca si la Fortitudo sta difendendo sicuramente con grande intensità e come possiamo vedere i bolognesi hanno mismatch praticamente in ogni ruolo quindi sarà importante ancora di più oggi per Cordenons giocare di squadra e trovare le soluzioni migliori intanto tiro da 3 punti di Malattia sbagliato rimbalzo lungo di Candy che riparte si riparte cerca ancora Polbodetto poi si torna da lenti consegnato per Candy difesa aggressiva di Stolfo mani sulla palla per il numero 8 in maglia bianca Candy alla fine mette giù il pallone fallo di Stolfo abbastanza evidente la rimessa sarà in attacco per la Fortitudo affidata ancora una volta al capitano pesino cerca Candy poi si va in ala da Galassi si torna da Polbodetto fuori per Candy rischio di farlo ancora per Stolfo molto aggressiva la difesa del numero 8 poi si butta dentro pesino rischio di infrazione di passi poi tiro difficile che non va rimbalzo controllato da Bertole può ripartire allora la squadra di casa con Malattia in palleggio Cebrino liberissimo in ala va a ricevere il numero 7 dentro per Rizzetto solito movimento di Rizzetto prova il gancetto il suo tiro non va però a Bersaglio rimbalza allora per Galassi e palla ancora per Fortitudo Fortitudo 3 ricordo Cordenons 0 Candy prova a buttarsi dentro scarico per Galassi ancora per Lenti si alza da 3 punti il centro di Bologna non va a Bersaglio la sua conclusione cerca di salvarla pesino poi qualche problema per Stolfo la palla alla fine arriva in qualche modo a Bertola si arresta Malattia prova da 2 punti in jumper e si sblocca subito Filippo Malattia 2 Cordenons 3 Fortitudo Candy con la palla in mano lui il playmaker titolare di questa squadra abbiamo detto in precedenza 16.3 punti di media partita anche 8 presenze in DNB quest'anno con la Fortitudo si è alzato intanto da 3 punti pesino non ha dato il suo tentativo qua difetta rimbalza ma riesce in qualche modo a controllare la palla Bertola prova allora a spingere Brino e arriva il fallo di Candy se ti dicevo Luca Candy anche 8 presenze in DNB 9 punti contro l'Eco nella partita a Casalinga sicuramente il giocatore più rappresentativo di questa squadra sì sicuramente è un giocatore esperto le presenze in DNB sicuramente gli sono servite per assumere la leadership di questa squadra vediamo Polveri abbastanza bagnate per entrambe le squadre in questo frangente di partita Cordenons si sta interpretando benissimo attenzione adesso c'è la bomba sbagliata rimbalzo di Polbodetto che fa partire la transizione bolognese transizione che parta ancora col capitano Pesino ci stava però la tripla di malattia deve prendere questi tiri deve trascinare la sua squadra lui che è il leader offensivo insieme a Bertola della 3S Cordenons Candy si butta dentro va a subire il fallo per poco non trova anche il gioco da tre punti andrà in lunetta con due liberi 6 minuti e 45 da giocare non un bellissimo inizio ma siamo abituati a questo a questo trend di percentuali nelle partite casalinghe della 3S Basket Cordenons doppio cambio per Montena escono entrambi Malattia e Bertola ed entrano Anzil e Topan due liberi appunto per Candy buono il primo sbaglia il secondo che viene letteralmente sputtato dal ferro di Cordenons allora Brino passaggio per Stolfo si arresta jumper di Stolfo da due punti non va cerca di prendere la rimbalza alla fine lo controlla il centrone lenti serve ancora una volta Candy cercato tantissimo dei suoi compagni di squadra numero 7 eccolo qui uscita dai blocchi per Galassi che va a ricevere palleggio per Galassi poi si torna da Polbodetto si alza da tre punti Polbodetto che tra l'altro ha giocato insieme a molti dei giocatori della 3S Basket Cordenons qua arriva il rimbalzo in attacco e altri due punti per lenti si torna dentro da Rizzetto si alza dalla media non va alla sua conclusione un po' imprecise al tiro quelli di Coach Montena alla fine la rimessa è inspiegabilmente per fortitudo la palla era scivolata dalle mani di Lenti l'arbitro ha visto così sicuramente era posizionato meglio di noi esce Stolfo intanto entra Scaramuzza si scalda intanto Malattia Galassi riesce a mettere giù il pallone senza commettere infrazione di passi si torna da Lenti ancora per Candy Candy apre il palleggio contro Scaramuzza che sappiamo essere un gladiatore in difesa raddoppio di Cordenosa si torna da Galassi grande difesa qua della squadra di Coach Montena poi si alza da tre punti Galassi tripla che non prende neanche il ferro riesce in qualche modo a salvarla però non consentendo il recupero dei suoi ancora Galassi qua arriva il fallo di Candy è il secondo penso sia il secondo Luca e questo può essere un fattore chiave per questa partita infatti viene subito sostituito il numero 7 ed entra al suo posto Leonardo Bertoncello entra anche con il numero 23 Pampani ed esce il capitano Pietro Pesino rimessa filata alle mani di Andrea Anzil Toppan esce dal blocco poi la palla arriva in angolo per Scaramuzza fuori per Rizzetto ecco Brino sul cambio di lato dentro bene per Toppan palla sbagliata davvero di qualche millimetro che non arriva nelle mani del numero 16 palla persa allora per Cordenons non è sicuramente un bel inizio Luca non è un bel inizio peccato perché in questa situazione Brino aveva trovato la soluzione migliore per l'attacco cordenonese peccato che il passaggio non sia stato curato alla perfezione ora vediamo questa continua pressione di Cordenons che sta portando comunque la fortitude a far fatica in attacco nonostante la prestanza fisica decisamente superiore adesso vediamo questo pick and roll laterale Lenti riceve tiro da tre punti di Polbodetto e rimbalzo di Cordenons che riparte in transizione si tre contro due per Cordenons la palla arriva Scaramuzza si alza da tre punti non trova neanche il ferro Scaramuzza in precedenza la fortitude aveva girato davvero bene il pallone dopo il pick and roll scarico per un tiro apertissimo di Polbodetto per fortuna di Cordenons sbagliato la palla adesso tra le mani di Pampani torna dal numero 22 Bertoncello ancora per Galassi dentro per Lenti lui è un centrone davvero importante dal punto di vista fisico magari non ha tantissimi centimetri anche se due metri sono una discreta altezza ma soprattutto è imponente dal punto di vista della muscolatura Luca Sì sicuramente a livello fisico Lenti è prestante però sa anche giocare bene Matteo sa farsi trovare libero porta ottimi blocchi per liberare i propri compagni in questo frangente di partita nonostante i soli sei punti segnati dalla fortitude è certamente il fulcro del loro attacco 3 contro 1 intanto per Cordenons si va da Malattia che si alza da due punti la palla viene sputtata dal ferro in precedenza 0 su 2 per Lenti che si è dimostrato impreciso 1 su 4 per lui in questo inizio allora palleggio per Bertoncello prova a cercare ancora Galassi Galassi apre il palleggio marcato molto bene da Malattia tutte le linee di passaggio sono chiuse si riesce però in qualche modo ad arrivare da Pampani prova a buttarsi dentro ancora fuori per Lenti arresto bene per Galassi da 3 punti impreciso il numero 16 rimbalzo di Anzil che riesce alla fine con l'aiuto di Toppan a controllare Scaramuzza allora in palleggio eccolo qui per Bertola in punta ancora per Malattia chiede di attaccare il ferro coach Montena si va dentro alla fine da Bertola molto bene per Anzil stoppato in qualche modo la palla rimane con 7 secondi per andare al tiro tra le mani di Cordenos si alza Malattia da 2 punti neanche il ferro per lui 2 secondi 1 secondo scadono i 24 è arrivato ancora prima il recupero di Fortitudo che adesso prova a volare in transizione si alza da 3 punti Pampani e trova la tripla del 9 a 2 time out immediato chiamato da coach Paolo Montena Luca peccato per Cordenos questa bomba in transizione perché in difesa sta sicuramente svolgendo un lavoro eccezionale coach Montena sicuramente indicato ai propri ragazzi di mettere le mani addosso al limite del fallo ogni azione offensiva bolognese peccato peccato davvero per Cordenos perché in attacco ha anche trovato buoni tiri ha trovato discrete soluzioni ma come solito vedere in questo campo Cordenos fa fatica a trovare la via del canestro e purtroppo è così le percentuali di Cordenos in questo campionato non sono senza dubbio eccelse però oggi devono sicuramente trovare il bandolo della mattassa quelli di coach Paolo Montena per raggiungere una vittoria che è a dir poco fondamentale quella di oggi ricordiamo Cordenos dodicesimo in classifica contro una fortitudo che è all'ottava posizione Cordenos in questo momento a pari punti con Pontevecchio però lo scontro diretto ha sfavore scontri diretti favorevoli solo contro Leoncino Basket Mestre con cui ha vinto sia all'andata che al ritorno palla adesso per Cordenos Scaramuzza prova ad aprire il palleggio eccolo qui numero 4 passaggio per Bertola ancora in punta cambio di lato con Malattia dentro per Scaramuzza molto bello questo schema di Cordenos la palla gira arriva Danzil prova ad arrestarsi poi torna da Toppan ecco Malattia si alza da 3 punti importante per sbloccare la squadra la palla ancora una volta non trova la via del canestro un po' di sfortuna anche per Cordenos 3 minuti e 10 da giocare 10 secondi per andare al tiro in questa azione con Scaramuzza che va a ricevere subisce il fallo di Andrea Pampani dicevamo in precedenza delle percentuali di Cordenos in questa stagione solo il 40,6% da due punti un percentuale non altissima sicuramente come ancora peggio il 22,2 da 3 il 57,8 i tiri liberi non solo percentuali da squadra che vuole puntare a un posto nel interzona grande schema l'abbiamo visto mille volte quest'anno e arrivano altri due punti per Cordenos con Toppan che muove il punteggio per la squadra di casa questo è uno schema che abbiamo visto almeno almeno una quindicina di volte in quest'anno Luca ed è uno schema che porta sempre a due punti facili sì certo il blocco cieco non è stato comunicato intanto c'è una palla persa da parte di Galassi dicevo è un blocco cieco su una rimessa laterale se non comunicato dalla difesa se la difesa non è pronta è sicuramente l'arma più efficace e infatti Cordenos ha trovato un bellissimo canestro ed è arrivata a quota 4 punti adesso vediamo Scaramuzza in palleggio che prova la penetrazione ottimo scarico per Toppan che ha un cattivo controllo e perde palla si ha perso palla Toppan prova a volare allora a fortitudo con Pampani frazione di passi in partenza nel frattempo Luca è entrato in campo con il numero 11 per Bologna Riccardo Lucchetta che è un figlio d'arte figlio della stella della palla a volo nazionale italiana Andrea Lucchetta ha vinto un mondiale ha vinto una medaglia di bronza alle Olimpiadi a Los Angeles nell'84 mondiale ha vinto a Rio de Janeiro nel 90 con Toppan intanto che è andato a ricevere dentro l'area scarico per Canzi che è freddo nonostante sia entrato ha rischiato di trovare subito i tre punti Bertola si alza anche lui da tre punti non va ancora la conclusione vediamo percentuali davvero bassi in questo momento poi Malattia fino al ferro andrà in lunetta con due tiri liberi applaude Montena è contento dell'atteggiamento dei suoi applaude anche il pubblico del Palazeport di Via Vellaneda a Cordenons 4 Fortitudo 9 ci saranno però due tiri liberi per Filippo Malattia mentre sta per rientrare anche Elia Rizzetto esce Toppan che ha trovato un gran canestro sulla sullo schema dalla rimessa laterale detto in precedenza intanto due liberi per Malattia non va al primo assolutamente da migliorare queste percentuali sbaglia anche il secondo Malattia davvero insolita questo doppio errore dalla lunetta per il numero 10 allora in palleggio ancora una volta il numero 22 Bertoncello eccola qui l'uscita dai blocchi per Pampani buona l'entrata in campo di Pampani in questa partita Lenti va a scaricare molto bene per la tripla di Bertoncello piazzata solo rete per il numero 22 11 a 4 anzi 12 a 4 penso a meno che il tiro non sia stato assegnato da due punti dall'arbitro con Scaramuza che va a ricevere in angolo Bertola qualche difficoltà per Bertola poi consegnato con qualche difficoltà ancora una volta per Canzi ancora Rizzetto fuori per Canzi Malattia va a ricevere il numero 10 jumper cadendo indietro di Malattia non va alla sua conclusione rimbalzo di Canzi che va a lottare poi Scaramuza c'è il bonus per la fortitude quindi saranno due liberi per Scaramuza percentuali devo dire non all'altezza per Cordenonso ma a livello di intensità davvero elevato Luca a livello di intensità Cordenonso ha avuto veramente un eccezionale inizio di partita peccato veramente per queste percentuali disastrose dal campo e anche ai tiri liberi perché d'altra parte la fortitude in attacco grazie anche appunto all'ottima difesa di Cordenonso non sta trovando soluzioni facili però a differenza dei biancoverdi ha trovato due soluzioni pulite da oltre l'arco un teggio comunque bassissimo minuto e 15 secondi dal termine del primo quarto 11 a 5 per la fortitude con in questo momento Bertoncello in palleggio si torna da Pietro Pesino che appena è rientrato in campo fuori per Pampani vediamo davvero vivace questo numero 23 scarico proprio per Lucchetta che prova a buttarsi fino al ferro difficoltà per lui la rimessa sarà per Cordenonso grande difesa qua degli uomini di Paolo Montena adesso importante un minuto dalla fine trovare almeno un canestro da due punti in questo prossimo possesso Brino ecco qui il numero 7 in palleggio va dietro la schiena qualche difficoltà per Brino riesce in qualche modo a tenere il pallone sotto canestro per Rizzetto vediamo se si gira in gancetto infrazione di passi vista dall'arbitro era sembrato anche a me Luca sì sì evidentemente ha spostato il perno peccato perché aveva ricevuto in una posizione molto profonda e sappiamo come lui sia bravo a concludere in queste occasioni palleggio per Bertoncello grande pressione di Alberto Canzi che fa del cuore la sua arma principale fallo qua di Rizzetto proprio su Lucchetta che andrà in lunetta con due tiri liberi 38 secondi un decimo da giocare in questo primo quarto due liberi per Lucchetta sbaglia il primo percentuali liberi disastrose per entrambe le squadre Luca si sta allacciando la scarpa a Elia Rizzetto allora si aspetta qualche seconda adesso tutto pronto per il secondo libero di Lucchetta non va bersaglio neanche il secondo tentativo 0 su 2 per lui come malattia poco fa Scaramuzza palla difficile di Brino non era male l'idea perché bisogna provare a correre in contropiede a trovare dei canestri facili quando le percentuali dal campo sono di questo livello infatti applaude coach Paolo Montena avevo detto in fase di prepartita che chiedeva sacrificio fatica e voglia come detto più volte questo lo stanno mettendo ma purtroppo nella basket bisogna mettere la palla dentro il canestro e non è la virtù principale di Cordenons soprattutto in questa partita ancora Brino che fa volare Canzi in contropiede ricezione finta Canzi splendido il canestro del numero 13 e ci voleva davvero bel movimento bella finta bel canestro bellissimo bellissimo canestro adesso Cordenons dovrà difendere questi ultimi 10 secondi per mantenere quantomeno l'inerzia di questo ultimo canestro palla sporcata da Scaramuzza e ultimi 6 secondi e 6 per organizzare un attacco per la fortitudo si come hai detto 6 secondi e 6 da giocare rimessi in attacco per la fortitudo ci vuole una grande difesa andare sotto di 4 al primo mini intervallo sarebbe una gran cosa per le percentuali che si sono viste in campo prova a ricevere pesino ancora dentro per Lucchetta si gira sul perno poi un secondo alla fine tira da centrocampo Scaramuzza solo tabellone per lui finisce allora il primo quarto tra gli applausi del Palasport di Via Vellanera Cordenons 11 fortitudo 7 Cordenons ci auguriamo di vedere qualche canestro in più Luca dal 1972 Intermec si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione sviluppando la tua idea dalla progettazione nel centro di ricerca fino alla realizzazione del prodotto la struttura che opera nella zona industriale di Cordenons è composta da centri di eccellenza in grado di rispondere alle più impegnative richieste dei clienti sia in termini di prodotto sia in termini di servizio moderni reparti di tornitura e fresatura realizzano lavorazioni meccaniche di altissima precisione grazie ad un parco macchina all'avanguardia Intermec segue direttamente l'intera logistica del prodotto dall'acquisto del materiale alla movimentazione ai trattamenti termici e superficiali fino alla consegna l'obiettivo è la realizzazione della qualità totale sia a livello tecnologico sia a riguardo al servizio globale di assistenza Intermec dal 1972 lavorazioni meccaniche di precisione sicuramente è stato un primo quarto a livello di intensità davvero bello però come in occasione della scorsa partita contro il Leoncino Mestre Cordenons fa veramente veramente tanta fatica a trovare dei punti facili d'altra parte però come abbiamo potuto notare oltre a far fatica a segnare fa anche far fatica alle squadre avversarie speriamo di vedere qualche canestro in più in questo secondo quarto ma se il trailer della partita a livello appunto di voglia di agonismo è quello visto nel primo quarto ne vedremo delle belle e speriamo assolutamente che sia così intanto saluto tutti i nostri telespettatori dal Friuli di FWG Sport Channel punto com e saluto anche i telespettatori che ci stanno guardando dalla Emilia Romagna in particolare da Bologna i tifosi della Fortitudo Bologna che sicuramente ci stanno seguendo numerosi devo dire tra l'altro Luca anche discreto pubblico questa sera qui al Palasport di Via Vellaneda siamo abituati a vedere questo palazzetto sempre stracolmo e anche stasera non è da meno il colpo d'occhio che ci offre appunto il palazzetto qua dello sport di Via Vellaneda Cordenons già in campo la Fortitudo che entra con numero 18 Gambetti che fa il suo esordio in questa partita con numero 23 Pampani con Pesino con numero 15 Giovanni Lenti e con il numero 22 Leonardo Bertoncello per Cordenons invece fa il suo esordio nella partita anche Mancin entra insieme a lui Brino Rizzetto Bertola e Canzi penso che ci sia qualche problema fisico Luca per Filippo Malattia perché si sta scaldando ogni volta che non è sul parquet sì l'abbiamo visto anche a metà primo quarto una volta uscito dal rettangolo di gioco correre dietro il canestro fare stretching e fare scivolamenti laterali speriamo non sia nulla di grave palleggio allora per Brino eccolo qui il numero 7 cerca ancora una volta Bertola sotto canestro per Brino questo è lo schema classico di Cordenons prova a tirare cadendo all'indietro gran ribalzo di Mancin che dimostra davvero tanto cuore può avere altri 14 secondi per andare al tiro Cordenons Brino va dentro da Rizzetto vediamo se si sblocca il numero 20 scarico per Canzi prova a buttarsi dentro con la mano sinistra tiro sempre con la mano Mancina che non va a bersaglio altro rimbalzo in attacco per Cordenons con Rizzetto che butta fuori per Canzi tiro dal gomito per Bertola due punti per il capitano 11 a 9 buona azione qua da parte di Cordenons soprattutto buona voglia al rimbalzo due rimbalzi consecutivi alla fine al terzo tentativo Cordenons ha trovato i due punti del meno 2 Pampani cerca ancora una volta Bertoncello fuori per il neo entrato Gambetti sotto canestro si sta provando a smarcare Lenti Gambetti mette giù palla va dentro fuori per la tripla di Bertoncello che non va a bersaglio lotta Lenti riesce a prendere il rimbalzo raddoppiato arriva un fallo sul raddoppio di Bertola e Mancin fallo proprio del numero 11 cambio per Fortitudo rientra Riccardo Polbodetto ed esce proprio Giovanni Lenti che non aveva ancora abbandonato il parquet in questa partita rimessa allora fidata alle mani di Andrea Pampani fuori per Pesino cercato ancora Bertoncello difesa zona mi sembra Luca in questo momento per Cordenons tripla dall'angolo tentata zona subito punita dalla tripla di Andrea Pampani Luca si sinceramente non mi spiego questo passaggio a zona da parte di Coach Montena perché a livello individuale intanto c'è una penetrazione di Brino che non trova il canestro e c'è il fallo di Rizzetto dicevo si mi spiego poco questo passaggio a zona da parte di Cordenons perché a livello individuale avevano davvero difeso benissimo nel primo quarto però un passaggio a zona insomma ci sta peccato subito punito dalla tripla dall'angolo e avrà sicuramente preparato bene la partita contro la zona Coach Roberto Breveglieri allenatore di Fortitudo Bologna escono intanto Rizzetto e Canzi sono rientrati Malattia e Topan mentre c'è da segnalare che il tiro precedente dall'angolo era da due punti come era da due punti anche la tripla nel primo quarto ben due tiri quindi messi con la piede sulla linea sfortunato un po' qua Fortitude in questo frangente allora Pampani ancora per Bertoncello prova a girare per Pesino si alza questa volta da tre punti con spazio non va però il suo tentativo lotta al rimbalzo qualche trattenuta anche ho visto al rimbalzo soprattutto da parte di Mancini l'arbitro non ha visto era impallato come si dice in gergo e la rimessa allora per Cordenons con Brino che prova a spingere il pallone in palleggio ancora Brino prova a buttarsi dentro prima in precedenza aveva forzato un tiro da due punti in penetrazione ottimo scarico per Malattia prima però era arrivato il fallo di Pampani rimessa allora in attacco per Cordenons da segnalare anche Luca l'eccessivo a mio avviso caldo dentro questo palazzetto nella serata di oggi non sempre è una cosa positiva soprattutto per giocare una partita di basket sì sì assolutamente c'è davvero tanto calore oltre che in quello climatico anche il pubblico come hai detto giustamente tu si sta facendo sentire e speriamo che sia quantomeno quest'ultimo un punto di vantaggio per Cordenons intanto c'è la tripla di Mancè sbagliata e rimbazza il polbodetto sì altro errore dalla linea dei tre punti per Cordenons con adesso Bertoncello che prova a spingere il palle in transizione eccolo qui il passaggio per Pampani davvero molto attivo questo numero 23 c'è il taglio di Gambetti non servito allora riceve si alza da tre punti Bertoncello palla sputtata dal ferro di Cordenons rimbalzo di Malattia che prova a volare in palleggio salta un avversario poi va dietro la schiena per Mancè che rinuncia al tiro ancora per Bertola fuori per Malattia Malattia contro due avversari vede il raddoppio sa che dentro c'era Bertola smarcato il passaggio però non arriva a destinazione perché col piede è riuscito a deviarlo il difensore della fortitudo che in quel caso mi sembrava fosse Pesino Mancè non riceve riceve invece Toppan consegnato per Brino dentro per Malattia vediamo che si gira al numero dieci cade all'indietro Malattia questo è il suo tiro e arrivano altri due punti per Filippo Malattia che deve prendersi la squadra sulle spalle Luca ottimo ottimo canestro canestro di Malattia dal post-up perfettamente servito da Brino e finalmente Cordenon sembra essersi sbloccata e pare stia andando a canestro con regolarità Pichero Pichero parlarci un po' su con i suoi ragazzi perché Cordenon sta continuando a difendere forte tutto campo dopo un passaggio a zona per un'azione subito punito da il long two dall'angolo di Pampani Coach Montena sembra essere tornato sui suoi passi d'altro canto la Fortitudo non sta più avendo le percentuali seppur scarse del primo quarto ha sbagliato anche in questo frangente due tiri aperti d'altra parte invece Cordenon sta lentamente iniziando ad avvicinarsi a canestro e ad alzare le proprie percentuali possiamo dire Luca che lentamente sta ingranando la marcia Cordenon 11 Cordenon 13 Fortitudo 6 minuti e 37 da giocare la rimessa sarà dal fondo per la Fortitudo Bologna per la palla persa di Marco Brino se ne occupa il numero 22 Bertoncello che torna da Pampani Pampani non sta facendo rimpiangere devo dire il playmaker Leonardo Candi top scorer della squadra si alza intanto dalla panchina Malavasi prova a buttarsi dentro Gambetti scarico per Pampani che mette giù il pallone con la mano sinistra attacca il ferro fino in fondo Pampani non arrivano i due punti arriva il rimbalzo di Malattia arriva anche Brino che spinge la palla in transizione per Malattia eccolo qui il numero 10 prova a buttarsi dentro gran penetrazione di Malattia che genera un ottimo giro di palla tripla tentata ben presa da Brino non ha bersaglio però purtroppo non entrano i tiri pesanti per la squadra di coach Paolo Montena ma in questo caso il tiro era stato generato davvero alla grande dalla squadra in maglia Biancoverde prova a buttarsi dentro pesino dentro per Polbodetto riesce a ricevere segna subisce il fallo e andrà in lunetta col tiro libero supplementare buon inizio da parte di Riccardo Polbodetto si aveva iniziato il match con un piazzato e adesso ha ricevuto un ottimo assist e è andato a concludere subendo il fallo peccato per Cordenosa nell'azione precedente perché ancora una volta a mio parere aveva svolto un ottimo lavoro in attacco intanto adesso c'è l'imbalzo di Rizzetto e Brino riparte conducendo la transizione lateralmente si prepara ad entrare anche il classe 98 Davide Corazza Under 17 di Cordenosa qua scarico trovato per Stolfo da parte di Malattia fuori per Rizzetto questo è uno dei suoi tiri che non va però a bersaglio si getta il rimbalzo Cordenosa lo prende con Stolfo che trova i due punti e fa esplodere il pubblico casalingo che in questo caso si trova alla nostra destra Luca li sentiamo davvero molto presenti ma anche ma anche molto presenti quelli di Fortitudo che si trovano invece dalla parte sinistra della nostra postazione grande rimbalzo qui in attacco per la Fortitudo con un tap out che serve Polbodetto palla che arriva Malavasi si gira la palla per Gambetti si arresta Gambetti trova bene Polbodetto sotto rischia di subire un fallo trova un tiro difficile che non va a bersaglio allora rimbalzo per Toppan e Brino prova ancora a far volare Stolfo ricezione complicata per Stolfo tiro difficile in reversa che non va Stolfo qua forse poteva anche pensare di ragionare di impostare un'azione d'attacco si l'inerzia era tutte le coordenons forse avrebbe fatto meglio a uscire in palleggio e a riorganizzare l'azione d'attacco Rientra Bertola in campo per coordenons intanto si sono usciti Brino e Toppan sono entrati come dicevo in precedenza Corazza e il capitano Bertola Bertoncello in palleggio si torna da Gambetti bello il taglio di Malavasi rischio di infrazione di passi arriva la stoppata di Stolfo sarà rimessa in attacco per la fortitudo Bologna 11 secondi per andare al tiro e difesa zona 2-3 per coordenons abbiamo visto spesso fare sulle rimesse dal fondo della squadra avversaria raddoppiato Malavasi che rischia di perdere la palla è così Stolfo può volare in contropiede Stolfo va a appoggiare molto bene qua coordenons 15 pari grandi applausi da parte di tutto il pubblico del palasport di Via Vela Neda adesso coordenons c'è Gambetti prova a mettere giù il pallone va sotto le gambe attacco difficile si palleggia sul piede poi palla recuperata ancora da Malattia adesso l'inerzia è tutta dalla parte di coordenons con Corazza che può servire Malattia serve invece benissimo Rizzetto non va il baby hook di Elia Rizzetto ma aveva trovato davvero con un gran passaggio Davide Corazza proprio Elia Rizzetto peccato per l'errore del numero 20 stanno per rientrare nel frattempo entrambi i pezzi da 90 di Bologna ovvero Leonardo Candi e Giovanni Lenti penetrazione intanto tentata da Bertoncello che forse rischia di pestare la linea di fondo riesce a recuperare palla però Bertola vola in contropiede Bertola serve ancora Rizzetto bruttissimo fallo da parte di Riccardo Polbodetto andrà in lunetta Elia Rizzetto siamo al limite su questo fallo si poteva anche essere sanzionato come fallo antisportivo però il metro arbitrale visto in questa categoria quest'anno è parecchio permissivo come io penso sia giusto ci sono parecchi contatti però il metro arbitrale è fisso e almeno per quanto riguarda questa partita non è ancora cambiato intanto Rizzetto ha subito fallo e va con il primo vantaggio della partita sul più uno 16 a 15 primo vantaggio allora per Cordenos che allunga a due punti 17 a 15 con il 2 su 2 di Elia Rizzetto adesso finalmente entrano anche i tiri liberi per la squadra di coach Paolo Montena che senza dubbio è entusiasta della prestazione dei suoi in questo secondo quarto va a ricevere ancora Bertoncello mette giù il pallone il numero 22 passaggio difficile per lenti gran recupero ancora di Bertola davvero grande l'intensità in questo momento di Cordenos che non vuole buttare al vento questa partita però la palla viene buttata via da Brino e arriva l'appoggio in contropiede per Candy altra palla persa per Marco Brino che se è il playmaker di questa squadra deve sicuramente trovare una prestazione di ben altro livello si torna da Stolfo in angolo tripla tentata da Stolfo che viene ancora una volta sputtata dal ferro rimbalza di Malavasi rischio di frazione di passi vabbè ininfluente nel gioco quindi l'arbitro giustamente non la fischia la palla per Leonardo Candy grande pressione di Brino si torna da Bertoncello vedete sportellate sotto canestro tra Bertola e Lenti davvero gran duello tra i due tra il numero 15 e il numero 19 scarico per Polbodetto due secondi un secondo scadono i 24 secondi non era buono il tiro e allora rimessa per Cordenos e minuto di sospensione chiesto dalla panchina di Cordenos da coach Paolo Montena che vuole cavalcare l'onda in questo momento e quindi dire ai suoi che questo è il momento decisivo per andare avanti peccato Matteo per queste palle perse di sufficienza se così possiamo dire di Cordenos perché i biancoverdi hanno evidentemente alzato il volume della radio nonostante nel primo quarto abbiano fatto un lavoro eccellente per quanto penso come detto in difesa il lavoro dei ragazzi di coach Montena è incomiabile però in attacco stanno ancora avendo qualche difficoltà a concludere nonostante sia tutta un'altra storia rispetto al primo quarto purtroppo è brutto ricordarlo ogni volta però il numero delle palle perse è davvero preoccupante per Cordenos e in questa stagione sono addirittura 468 se non si conta l'ultima partita quella di Trento e quindi 29.25 di media partita che sono davvero troppo poche rispetto ai 15.3 recuperi di media e i 6.5 assist di questa stagione in DNG per la 3S basket Cordenos è davvero preoccupante il dato delle palle perse e anche stasera devo dire che si sta confermando questa statistica anche se devo dire che Fortitudo forse sta facendo peggio Luca si forse sta facendo peggio il dato che hai appena estrapolato tu di 30 palle perse di quasi 30 palle perse a partita è quanto mai grottesco per me intanto Brino in una difficoltesa ricezione porta palle avanti dicevo anche la Fortitudo sta perdendo parecchi palloni e Cordenos avendo questo problema dovrebbe quantomeno tirare con percentuali migliori di quelle che sta tirando non solo in questa partita ma in tutta la stagione regolare 6 secondi per andare al tiro in questa azione rimessa affidata al neo entrato Willy Castellarin cerca Brino lo trova sotto canestro scarico per Rizzetto si alza con 3 secondi per il termine dei 24 sbaglia ancora Rizzetto corto per l'ennesima volta al numero 20 Leonardo Candi allora in palleggio si torna da Polbodetto Polbodetto prova a girare il pallone trova in qualche modo Giovanni Lenti che va a subire il fallo di Stefano Bertola anzi di Scaravuzza andrà in lunetta con due tiri liberi tra l'altro c'è da dire che Lenti proviene dal basket Livorno è arrivato anche lui come Polbodetto nel 2013 in Fortitudo a Livorno lui tra l'altro aveva anche avuto delle presenze con un buon rendimento in C regionale quest'anno prestazioni migliori per lui contro Pontevecchio 23 punti contro la Reggiana 22 adesso è andato a sbagliare un altro tiro libero ne sbaglia un altro ancora 1 su 6 per lui nella giornata di oggi davvero nere le percentuali tiri liberi per Lenti che però va a recuperare il pallone altra palla persa di Brino che non sembra in gran serata no non sembra in gran serata peccato perché dovrebbe mettere tranquillità alla squadra invece le 5 palle perse di questo primo tempo non hanno sicuramente facilitato l'attacco crudenonese qua altro passaggio difficile di Marco Brino che però arriva a bersaglio con Rizzetto si arriva in punta da Bertola pensa al tiro poi ci rinuncia ancora a Scaramuzza per Brino pressato da Malavasi in angolo Brino mette giù il pallone va dentro gran tiro qua di Brino bella la sua iniziativa un po' meno la conclusione poi riesce a strappare il rimbalzo Stefano Bertola che viaggia Luca Stefano Bertola viaggia a 3.7 rimbalzi in attacco di media partita questo è senza dubbio una delle percentuali delle percentuali scusate delle statistiche migliori del numero 19 che anche in questo caso è andato a lottare a prendere rimbalzi in attacco ha subito un fall andrà in lunetta con due tiri liberi per riportare avanti la 3S Basket Cordenosa mentre sta per rientrare Riccardo Lucchetta esce proprio Riccardo Polbodetto altro figlio d'arte figlio di Claudio Polbodetto due liberi per Bertola non va al primo tentativo nel silenzio del Palasport di Via Vellaneda è buono invece il secondo allora 18-17 per Cordenons cambio esce Elia Rizzetto entra Filippo Malattia non entra invece ancora Stolfo che invece va a sedersi in panchina allora possesso importante questo per Fortitudo che può riportarsi in vantaggio palleggio per Leonardo Candy va in ala da Pesino il capitano sportella un po' con Scaramuzza poi serve ancora Giovanni Lenti fuori per Candy dentro di nuovo per Lenti altra palla recuperata dal duo Bertola Malattia bell'anticipo di Bertola perfezionato da Malattia che riesce qua a trovare Brino altro tiro del numero 7 altro airball per Brino non è proprio serata per il numero 7 qua arriva il fallo penso di Willy Castellarino è proprio così saranno due tiri liberi perché ha già raggiunto il bonus Cordenons due liberi allora per Giorgio Malavasi mentre mancano 59 secondi e 6 decimi al termine del secondo periodo buono il primo per Malavasi pareggio della fortitudo 18 pari sbaglia il secondo si rimane in parità percentuali orribili dalla lunetta per entrambe le squadre con Willy Castellarino che adesso prova a spingere per Brino bella la ricezione volante di Marco Brino poi per Bertola sbaglia la conclusione da due punti prova allora a spingere palla in transizione Leonardo Candy che non sta giocando una grandissima partita quest'oggi anche gravato di due falli Giovanni Lenti va a ricevere poi consegnato ancora per Candy che prova a buttarsi dentro poi Lucchetta si alza da tre punti per portare a più tre la sua squadra non trova neanche il ferro 32 secondi allora al termine della seconda frazione con Malatia che va da Scaramuzza pensa al tiro poi mette giù palla scarica ancora per Bertola fuori per Brino ottima la prestazione del numero 7 tiro difficile neanche il ferro altro airball per Brino 16 secondi ultimo possesso 18 pari qualche difficoltà nel oltrepassare la metà campo per Leonardo Candy vediamo come gestisce la l'ultimo possesso la fortitudo con Lucchetta che va ad arrestarsi tiro da due punti difficili rimbalzo di Lenti che va ad appoggiare spaglia lo scadere finisce qui allora anche il secondo quarto Cordenons 18 fortitudo Bologna 18 punteggio a mio avviso imbarazzante Luca però c'è una partita sì c'è sicuramente una partita diciamo che il fatto che le due squadre siano appagliate a quota 18 sia l'unico motivo per cui è resa interessante questa gara Matteo perché 36 punti segnati complessivi di due squadre veramente non l'avevo mai vista io ne ho viste parecchie di partite di pallacanestro e speriamo allora di vedere qualche canestro in più nella ripresa e speriamo soprattutto di vedere una bella partita fino alla fine ci risentiamo tra all'incirca dieci minuti sempre qui in diretta streaming su fwgsportchannel.com a più tardi dal 1972 Intermec si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione sviluppando la tua idea dalla progettazione nel centro di ricerca fino alla realizzazione del prodotto la struttura che opera nella zona industriale di Cordenons è composta da centri di eccellenza in grado di rispondere alle più impegnative richieste dei clienti sia in termini di prodotto sia in termini di servizio moderni reparti di tornitura e fresatura realizzano lavorazioni meccaniche di altissima precisione grazie ad un parco macchina all'avanguardia Intermec segue direttamente l'intera logistica del prodotto dall'acquisto del materiale alla movimentazione ai trattamenti termici e superficiali fino alla consegna l'obiettivo è la realizzazione della qualità totale sia a livello tecnologico sia a riguardo al servizio globale di assistenza Intermec dal 1972 lavorazioni meccaniche di precisione Rieccoci ben ritrovati dal Palasport di Via Vellaneda a Cordenos ricordiamo il punteggio 18 pari tra 3S Basket e Fortitudo Bologna tra pochissimo andiamo da Luca Gelormini con le statistiche devo dire impietose dei primi due quarti Luca ci sei? sì impietose Matteo non c'è molto da dire top scorer di Cordenos sono Malattia e Marco Stolfo con 4 soli punti mentre per quanto riguarda la Fortitudo il miglior realizzatore per ora è con 5 punti Andrea Pampani e l'avevo detto e l'avevo detto anche in precedenza che avevo visto grande vivacità proprio dal punto di vista del gioco di Andrea Pampani ecco qui la palla ben trovata dentro per Candy arriva l'errore arriva però il fallo fallo di Rizzetto allora due tiri liberi per Leonardo Candy è importante per la Fortitudo che proprio lui che ha 16.3 punti di media partita si sblocchi in questa gara buono il primo proprio per il numero 7 e il secondo viene invece sputato dal ferro ma arriva rimbalzi in attacco piede fuori forse non visto però dall'arbitro meglio così perché riparte la transizione di Cordenos con Brino ecco qui Bertola in punta cerca ancora malattia buono al blocco per Rizzetto da parte di Bertola esce Ricciolo Rizzetto poi fuori ancora per Bertola dentro per Brino eccolo qui Brino che prova a cercare in angolo Stolfo Stolfo dentro per Bertola si muove spalla a canestro poi tira cadendo all'indietro con 4 secondi per andare al tiro sbaglia la conclusione Bertola rimbalzo di Candy che apre il palleggio e fa giocare la sua squadra cerca un passaggio per Pesino eccolo qui Giovanni Lenti va a ricevere sul gomito si butta dentro il palleggio stoppata imperiosa di Stefano Bertola poi va dietro la schiena ancora malattia malattia per Bertola bella lo scambio tra i due non perfetto però il passaggio di Stefano Bertola allora Pesino prova a partire forse in frazione di passi arrivano i due punti finta di passaggio di Pesino il capitano della fortitudo Bologna che ha portato a più 3 la sua squadra partita meglio la squadra emiliana in questo caso è arrivata un'altra palla persa per Cordenos a quanto siamo Luca con queste due ultime palle perse siamo e mi sorprende un po' a dire il vero a questo dato siamo a sole 9 perse onestamente pensavo fossero molti di più tornando un attimo alle statistiche troviamo di spicco gli 11 rimbalzi di lenti che sta facendo veramente la voce grossa sotto canestro mi sembra di leggere anche un 20% dal campo per Cordenos contro il 25 della fortitudo si tira davvero malissimo come mi diceva uno spettatore durante l'intervallo sembra abbiano messo il coperchio al canestro 21-18 in effetti punteggio bassissimo con Malattia che adesso va a servire Rizzetto consegnato per Brino che prova a spingere palla in palleggio ecco cercato in punta ancora Rizzetto Rizzetto prova a girarsi in qualche modo qua si butta a terra lenti poi riceve ancora Rizzetto azione molto confusionaria questa da parte di Cordenos col restetiro di Canzi che non va a bersaglio rimbalzo di lenti non bellissimo l'attacco di Cordenos nello scorso frangente allora vediamo la tripla tentata dall'angolo da Canzi che non va a bersaglio fallaccio qua di Toppan è caduto a terra Malavasi e la rimessa sarà appunto per Bologna cambio per Cordenos vediamo chi esce esce Brino non in serata purtroppo no Brino purtroppo sta facendo una brutta partita e lo testimoniano le quattro palle perse già citate precedentemente e un non felice zero su sei dal campo intanto c'è rimbalzo di lenti che va a segnare il canestro del più cinque peccato perché Cordenos in questo terzo quarto è partita davvero male in attacco dopo i segnali incoraggianti del finire del primo tempo servita allora Malattia qualche problema per lui sulla grande pressione di Candy si va sotto da Toppan sette secondi per andare al tiro si butta dentro Scaramuzza scarico per Canzi si alza da tre punti Canzi palla ancora una volta sputtata dal ferro rimbalzone di Toppan e fallo di Pietro Pesino dicevi che non sta molto girando l'attacco di Cordenos in questo inizio di terzo quarto gira un po' meglio invece quello di Fortitudo infatti nell'azione precedente è arrivato un ottimo tiro dall'angolo di Leonardo Candy che ha generato poi un buon rimbalzo e i due punti di Lenti gran canestro qua in reverse di Malattia ma lui ci ha abituato a queste conclusioni ravvicinate con grande prestigio ancora Pietro Pesino cerca ancora Candy che prova a buttarsi dentro tiro difficile di Candy che non va a bersaglio si era chiusa molto bene la difesa di Cordenos con Scaramuzza che cerca ancora una volta Canzi bene per Rizzetto tiro aperto del numero 20 ancora una volta non trova il bersaglio percentuali pessime anche per Elia Rizzetto Luca si 0 su 6 dal campo intanto c'è un recupero da parte di Cordenos che riparte con Malattia 3 contro 3 ottimo passaggio per Rizzetto che da sotto misura insacca i due punti e questa volta non poteva davvero sbagliare lì a Rizzetto ha trovato i due punti del meno uno per Cordenos 6 minuti e 20 da giocare 23-22 per Bologna con Pesino che adesso è andato a ricevere palla mette giù palla in palleggio cerca ancora una volta Giovanni Lenti difesa aggressiva di Toppan punita dall'arbitro che fischia il fallo al numero 16 doppio cambio rientra Riccardo Lucchetta ed esce Giovanni Lenti per Bologna esce anche Toppan ed entra Andrea Anzil per coach Paolo Montena un Montena che non può che essere soddisfatto dal punto di vista dell'intensità dei suoi non sarà certo soddisfatto delle percentuali ma Luca l'ha sempre detto anche in intervista è ben consapevole dei limiti tecnici dei suoi ragazzi che devono cercare di vincere la partita sotto un altro piano con la penetrazione cercata da Gambetti e non trovato però il bersaglio grosso con malattia che cerca ancora Rizzetto segna questa volta il jumper dal gomito e c'è bisogno dei canestri di Elia Rizzetto che è il terzo leader offensivo di Cordenons e c'è tanto bisogno di lui in questa partita con Candia adesso in palleggio quello di Rizzetto dal canestro del sorpasso più uno Cordenons Malavasi prova a buttarsi dentro subisce il fallo di Canzi rimessa allora dal fondo con il cambio che vede uscire Francesco Gambetti ed entra in campo con il numero 22 Leonardo Bertoncello rimessa laterale per la squadra ospita affidata ancora una volta a capitano Pietro Pesino ancora qua al numero 20 si alza da tre punti dimenticato dalla difesa sbaglia però la tripla rimbalzone di Filippo Malattia che prova allora a spingere in palleggio partita molto tesa grande gioco di Malattia che si butta fino in fondo tiro difficile che non va rimbalzo però di Rizzetto forse un fallo riesce poi con il Baby Hook Rizzetto davvero on fire adesso Rizzetto Luca si davvero on fire in concomitanza e penso non sia proprio un caso dell'uscita di Lenti ha trovato sei punti consecutivi una prestanza eccezionale sotto Canestro intanto c'è la palla persa della fortitudo che chiama time out Cordenance dopo un inizio a stento nel secondo tempo ha ritrovato la via del Canestro ha ritrovato le ottimazioni ha ritrovato l'intensità che l'ha sempre costradistinta in difesa e i risultati si vedono time out immediato chiamato da coach Roberto Breveglieri in tribuna c'è anche il nuovo allenatore della prima squadra della fortitudo Bonicciolli che poi avremo il piacere anche di avere in intervista tra l'altro Luca c'è da dire che come tu hai detto benissimo appena uscito Giovanni Lenti Rizzetto si è acceso allora forse potrebbe essere che che lui soffra veramente questo giocatore il numero 15 in maglia blu sì sicuramente è un giocatore di peso sicuramente è un giocatore ingombrante d'altra parte allenarsi con la DNB con un totem come gli annilli deve averli sicuramente impartito qualcosa e adesso Cordenon dovrà sicuramente continuare su su questo su questa falsariga e e vediamo oltretutto che coach Montana ha deciso di andare con un quintetto piccolo con malattia da numero 4 malattia da numero 4 allora sotto i ferri ci si affida totalmente a un ritrovato lì a Rizzetto in questo terzo periodo Anzil cerca ancora malattia difficile la ricezione del numero 10 che però può giocare l'uno contro uno contro il numero 22 Bertoncello non arriva al canestro arriva però il rimbalzo di Anzil il cronometro non si è resettato allora tripla di malattia che porta Cordenons sul più 6 29 3s 23 fortitudo tripla davvero importante con 4 secondi per andare al tiro di Filippo Malattia adesso è davvero tutta dalla parte di Cordenons l'inerzia della partita Pesino prova a buttarsi dentro lo scarico per Lucchetta il resto è tiro dalla media di Lucchetta che non va rimbalza l'ora di Rizzetto bisogna andare via in questo momento Luca sì assolutamente possiamo dirlo Matteo adesso Cordenons sta giocando proprio un bel basket ed era anche ora perché non si stava vedendo sicuramente una bella partita quest'oggi al Palasport di Via Vellaneda si è svegliata la squadra di coach Paolo Montena che è davvero contento dei suoi in questo momento e cerca di tenere alta l'intensità spronando i suoi ragazzi devo dire davvero in ogni secondo della partita rimessa per Scaramuzza un po' affollata adesso l'area di fortitudo si gira bene Malattia sbaglia il tiro che non era di certo facile allora rimbalzo per Candy che può volare in contropiede Candy forse un fallo di Scaramuzza ma grande difesa ancora di Scaramuzza questo è doppio palleggio l'arbitro non lo fischia ma questo è doppio palleggio Luca sì inspiegabile come un arbitro esperto come Balducci non abbia sanzionato né da prima il fallo secondo me molto evidente di Scaramuzza né la evidentissima infrazione di doppio palleggio da parte di Candy intanto Candy adesso andrà in lunetta con due tiri liberi per riavvicinare i suoi due liberi allora per Candy buono il primo con un po' di fortuna 29-24 più 5 Cordenons che deve cercare di sfruttare questo momento sta mettendo davvero una grande intensità difensiva lo testimonia anche il fatto che sia già in bonus già 5 falli spesi dalla squadra di coach Paolo Montena ma giusto così allora Anzil pressione adesso di Bologna con Rizzetto esce benissimo dalla pressione la squadra di coach Montena con Anzil che adesso cerca ancora Rizzetto si butta dentro Rizzetto passa e tiro però viene stoppato da Lucchetta che prova a far volare in contropiede Candy che va a poggiare segna subisce il fallo di Canzi e Andrei Lunetta con il tiro libero supplementare non ci voleva non ci voleva anche perché Cordenons si era uscita bene aveva organizzato secondo me anche un buon attacco però Lì a Rizzetto è andato a cercare una penetrazione quando non c'era né spazio né tantomeno motivo perché poteva tranquillamente prendersi i jumper dai 5 metri sul ribaltamento di fronte Leonardo Candy in contropiede è andato a segnare il canestro col fallo e a concretizzare il gioco da 3 punti concretizza quindi il gioco da 3 punti ancora Candy Canzi intanto viene servito molto bene sotto canestro scarico per Scaramuzza da 3 punti non va alla tripla poi grande assist di Malattia arriva al fallo sotto canestro di Lucchetta due liberi per Bertola grande assist qua di Filippo Malattia Scaramuzza tira davvero con percentuali bassi da 3 punti in DNG con invece al contrario in Serie D è un grandissimo tiratore da 3 punti come ti spieghi questo dato? evidentemente intanto ci sono due tiri per Bertola in un silenzio quasi assordante se così possiamo dire e dicevo probabilmente anche perché in Serie D il livello fisico il livello di intensità è molto molto minore quindi ci sono c'è sicuramente più tempo per un tiratore per caricare prendere la mira e scoccare il tiro intanto c'è stato il 2 su 2 di Bertola che ha mandato i suoi a più 4 e adesso l'attacco è organizzato da Leonardo Candy va dietro la schiena Candy poi va a subire il fallo andrà in lunetta per via del bonus nel frattempo è rientrato col numero 16 Gregorio Galassi che era stato dimenticato in panchina e da coach ricordiamo Roberto Breveglieri e tra l'altro Galassi ha trovato la miglior prestazione stagionale proprio contro il Cordenosa l'andata 15 punti per lui due liberi intanto per Candy che sta tenendo da solo praticamente la fortitude attaccata a questa partita 3 minuti 18 da giocare meno 4 Bologna meno 3 col tiro libero realizzato da Leonardo Candy e allora Stolfo pressione ancora di Bologna ma Cordenosa è davvero in palla in questo momento Scaramuzza dentro per Bertola prova a girarsi Bertola in palleggio allora torna Danzil eccolo qui il numero 9 ancora Danzil cerca Malattia buona la partenza del numero 10 sotto per Bertola si butta terra letteralmente Lucchetta scarico da 3 punti Malattia non va rimbalzo però di Canzi che riesce a controllare palla scusate di Anzil non riesce però a controllare il rimbalzo Cordenosa allora c'è un altro possesso per la fortitudo 31 a 28 il punteggio qui a Cordenosa Leonardo Candy ancora una volta in palleggio si affida totalmente a lui adesso la fortitudo Pesino va a ricevere cerca ancora una volta Candy si butta dentro Candy poi si alza da 3 punti tripla splendida giocata di Candy Luca Canestro eccezionale uno step back alla James Harden per Candy che ha creato separazione ha preso un tiro pulitissimo da 3 punti che è finito a fondo della retina la palla arriva Stolfo gira benissimo palla Cordenosa extra pass per malattia da 3 punti non va al suo tentativo dimenticato il rimbalzo Stefano Bertola che va a portare di nuovo sul più 2 Cordenosa 33 a 31 altri 2 punti per Bertola con un altro rimbalzo in attacco abbiamo detto in precedenza sulla statistica chiave si butta dentro Bertoncello trova un ottimo canestro ancora parità punto a punto questa partita 1 minuto e 50 da giocare nel terzo quarto 33 a 33 tra Cordenosa e Fortitudo Bologna con Malattia che si butta dentro tutto solo va a appoggiare subisce anche il fallo andrà in lunetta col tiro libero aggiuntivo gran giocata di Filippo Malattia gran giocata perfetta penetrazione fino in fondo da sottolineare anche il perfetto taglia fuori offensivo portato da Bertola su questa penetrazione adesso come di consueto ogni tiro libero del Cordenosa c'è questo silenzio quasi imbarazzante Malattia sbaglia però Cordenosa mantiene il possesso in attacco e avrà un'altra possibilità per incrementare il proprio vantaggio mi piace Luca come per rispettare il silenzio del palazzetto tu abbassi anche il tono della tua voce con Anzil che va a ricevere adesso la palla con Malattia adesso in palleggio consegnato per Stolfo fuori per Scaramuzza prova a mettere giù palla si arresta jumper dalla media Scaramuzza due punti che ci volevano davvero per il numero 4 e ci volevano anche per la 3S che si porta sul più 4 37-33 grande difesa di Stolfo che deve stare attento per non commettere fallo perché la sua squadra è in bonus ancora Candy prova ad arrangiarsi in questa partita con la sua fortitudo va a trovare altri due punti gran giocatore davvero questo Leonardo Candy purtroppo però per i suoi è da solo sembra un profeta nel deserto con adesso Scaramuzza che va a ricevere in angolo cerca ancora ottimo cambio di mano va fino in fondo Scaramuzza fa saltare e va ad appoggiare dopo una finta splendida azione di Scaramuzza davvero esploso il numero 4 in questo momento ultimo minuto di terzo quarto con Bertoncello in possesso di palla si alza da due punti Bertoncello in questo momento però la fortitudo non ha idee si sta affidando alle iniziative individuali e questo porta Cordenosa ad essere in vantaggio di 4 punti dietro la schiena ancora malattia Bertola trova Stolfo da 3 punti tripla di Stolfo come gira adesso Luca la squadra di Cosmontena i ragazzi di Cosmontena adesso stanno predicando pallacanestro mentre all'altra parte la fortitudo si sta esclusivamente affidando all'iniziativa di Leonardo Candy in compenso Cordenosa anche in difesa sta facendo il possibile tripla di Candy sbagliata rimbalzo ancora per la fortitudo che con Galassi va a segnare il jumper dai 4 metri ultimi 7 secondi per Cordenosa 5 4 3 c'è Stolfo che prova ad andare fino in fondo la rimessa sarà per Cordenosa un secondo un secondo il cronometro si è fermato nettamente dopo vediamo se verrà riportato a un secondo un secondo e due come avevo visto dalla mia postazione 42 a 37 nel frattempo era arrivato il canestro di Galassi come hai ben detto in nel tuo intervento Luca con Anzilla adesso che si occupa della rimessa ci vuole un tiro subito palla che viene deviata allora finisce il terzo quarto 42 a 37 e tra l'altro Luca c'è da sottolineare che Cordenosa ha fatto 18 punti in due quarti e ne ha fatti 24 solo nel terzo periodo dal 1972 Intermec si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione sviluppando la tua idea dalla progettazione nel centro di ricerca fino alla realizzazione del prodotto la struttura che opera nella zona industriale di Cordenosa è composta da centri di eccellenza in grado di rispondere alle più impegnative richieste dei clienti sia in termini di prodotto sia in termini di servizio moderni reparti di tornitura e fresatura realizzano lavorazioni meccaniche di altissima precisione grazie ad un parco macchina all'avanguardia Intermec segue direttamente l'intera logistica del prodotto dall'acquisto del materiale alla movimentazione ai trattamenti termici e superficiali fino alla consegna l'obiettivo è la realizzazione della qualità totale sia a livello tecnologico sia a riguardo al servizio globale di assistenza Intermec dal 1972 lavorazioni meccaniche di precisione Sì in attacco in questo terzo quarto Cordenon si ha trovato ottime soluzioni ha trovato un ottimo gioco corale ha trovato perfette collaborazioni a due tra tutti i giocatori in campo e dobbiamo segnalare Matteo in questo terzo quarto l'ottima presenza sotto canestro di Rizzetto che con quei sei punti consecutivi in concomitanza dell'uscita da capo di Giovanni Lenti ha dato respiro e ha portato in vantaggio la propria squadra il resto l'hanno fatto Malattia e Bertola come di consueto e da non sottovalutare anche l'apporto di Davide Scaramuzza che nonostante sia il più piccolo a livello di statura tra i dieci ha dato energia ha dato rimbalzi ha dato ottime cose sia in attacco che in difesa e infatti Luca la svolta secondo me è arrivata in questo periodo perché tutti quanti hanno portato il loro apporto nella fase offensiva per Cordenons la fase difensiva lo sappiamo è sempre di alto livello per la squadra di coach Paolo Montena però nelle ultime partite davvero almeno nelle ultime dieci partite era mancato l'apporto generale di squadra che è arrivato in questo terzo quarto sono arrivati 24 punti è arrivato il più 5 perché comunque anche la fortitudo ha alzato il proprio livello di gioco nonostante si sia affidata specialmente alle iniziative individuali di Leonardo Candy è ancora attaccato a questa partita tutto da vivere quest'ultimo periodo 42-37 ricordo ancora una volta il punteggio ci vuole una grande prova d'orgoglio in quest'ultimo quarto sì assolutamente ci vuole una prova d'orgoglio ci vuole che i ragazzi continuino su quanto di buono fatto in questo terzo quarto appena giocato serve che i ragazzi buttino fuori il cuore gli attributi e la voglia per portare a casa questa partita che come la scorsa è di vitale importanza rimessa allora affidata alle mani penso di Davide Scaramuzza perché la palla è di Cordenons ed ecco che si fa sentire il pubblico del Palasport di Via Vellaneda vicini ci si è ragazzi in questo momento di fondamentale importanza Brino che non ha giocato una grande gara ma c'è bisogno anche di lui in quest'ultimo quarto dentro da Bertola eccolo qui lo scarico per Anzil prova a cambiare lato c'è difficoltà nel trovare il passaggio difficoltà davvero per Anzil che riesce in qualche modo a tenere il possesso di palla si butta dentro il numero 9 arriva il fallo qua non ha perso la testa Anzil si è guadagnato un buon fallo sì si è guadagnato un buon fallo l'attacco questo primo attacco è stato sicuramente faragginoso e questo fallo subito da Anzil è davvero oro per l'attacco cordelonese adesso vedremo con questa rimessa dal fondo in 14 secondi cosa di buono sapranno trovare i ragazzi di Cosmontena Stolfo torna da Anzil 10 secondi per andare al tiro ecco Brino Brino cerca ancora trova un'altra palla persa Luca davvero Brino davvero non riesce ad entrare in partita il numero 7 ma il suo è un apporto che come ho detto pochi istanti fa è davvero di fondamentale importanza eccolo qui Leonardo Candi in palleggio contro Scaramuzza il miglior difensore di coach Paolo Montena sul miglior giocatore della fortitudo Bologna che va a servire ancora una volta Bertoncello si torna da Galassi il numero 16 serve Gambetti che prova a buttarsi dentro Gambetti subisce il fallo sbaglia però la conclusione andrà in un età con due tiri liberi fallo penso di Stolfo è così terzo fallo per Stolfo due liberi allora per Francesco Gambetti silenzio agghiacciante anche durante i liberi della fortitudo Luca c'è davvero grande rispetto grande fair play anche da parte del pubblico di Cordenons va a bersaglio solo il secondo tentativo per Gambetti 42 a 38 allora per Cordenons Bertola cerca Anzil di nuovo da Brino in questo momento è fuori Filippo Malattia ci aspettiamo di rivederlo in campo tra pochi minuti con Anzil che adesso va a prendersi un jumper questo è il suo tiro sbaglia però lungo sul secondo ferro rimbalzo e palla gettata anzi no Galassi va a segnare gran passaggio baseball da parte di Leonardo Bertoncello che ha rischiato qualcosa ma la palla è arrivata a destinazione poi gran canestro di Gregorio Galassi allora Brino ancora per Anzil si è un po' bloccata l'attacco di Cordenons infatti rientrano Rizzetto e Malattia si alza Brino da tre punti non va giornata nera per lui rimbalza ancora di Galassi fallo di Bertola vediamo chi esce escono Bertola e Anzil ed entrano come detto in precedenza Malattia e Rizzetto rimessa per la fortitudo è iniziato è iniziato davvero col piede sbagliato questo quarto periodo per Cordenons Sì l'uscita di Filippo Malattia a cavallo tra il terzo e il quarto e il quarto probabilmente ha privato di quello sprint necessario che si era visto nel terzo e il quarto i biancoverdi notiamo che comunque Coach Montana continua con l'assetto con quattro piccoli con Malattia da quattro perché evidentemente appunto il terzo e il quarto in termini di produttività sia stato davvero eccezionale Candy va sotto le gambe poi va con il cambio di marcatura benissimo Rizzetto non arriva però il recupero si alza da tre punti Pampani sbaglia la conclusione c'era forse un'infrazione di campo per quello protesta la panchina di Cordenons e anche il pubblico di casa con Scaramuzza che adesso torna da Malattia che può alzarsi da tre punti rinuncia al tiro torna da Brino dentro ancora per Malattia splendido assist di Malattia sbaglia però Stolfo rimbalzone di Rizzetto fuori per Brino eccolo qui Malattia da tre punti importante tripla di Filippo Malattia che va anche a gasarsi tirandosi dei pugni sul petto e questa era una tripla di fondamentale importanza Luca si l'entrata in campo di Malattia ha dato sicuramente l'infa vitale a Cordenons poi serve il talento smisurato del numero 10 di Cordenons per segnare questa tripla intanto è un rimbalzo di Brino e Cordenons che può ripartire Brino torna da Malattia Malattia sta fornendo delle prove davvero eccezionali nelle ultime partite ecco qua Rizzetto ancora per Brino dentro per Stolfo gira bene Cordenons sbaglia ancora però Stolfo da sotto prova poi a correre per rubare palla Galassi cost to cost va a poggiare con la mano sinistra Galassi i punti del meno tre sette minuti da giocare nell'ultimo periodo Cordenons sta girando bene palla purtroppo arrivano degli errori gratuiti da sotto canestro sicuramente però non sono tiri facili ci si affida allora Filippo Malattia tiro difficile del numero 10 che non va a bersaglio rimbalzone del numero 22 Leonardo Bertoncello che prova a spingere adesso in palleggio passaggio un po' rischioso arriva la deviazione con la gamba e arriva quindi la rimessa per la fortitudo mentre rientra in campo Alberto Canzi ed esce proprio Davide Scaramuzza tra gli applausi del pubblico di Cordenons rimessa affidata proprio Bertoncello rientra anche il capitano Pietro Pesino esce proprio Leonardo Candi rientra anche dopo un bel po' devo dire Giovanni Lenti sì sicuramente adesso la storia cambierà per Cordenons sia in attacco che in difesa vedremo adesso come si comporteranno i ragazzi in maglia bianco verde Gambetti scarico da tre per Pampani non va alla conclusione dimenticato però al rimbalzo Pesino che va a controllare poi Galassi scarico ancora per Pampani questa volta rinuncia al tiro Gambetti mette giù il pallone con la mano sinistra cerca dentro ancora una volta Galassi poi Lenti in qualche modo stoppata secondo me regolare che invece viene considerata fallosa dall'arbitro saranno due liberi per Lenti sì anche secondo me Matteo dalla nostra postazione si è visto tanto cuoio sotto la mano di malattie intanto il primo tiro libero sbagliato da parte di Lenti che avrà la seconda possibilità per portare la propria squadra almeno due segna il secondo Lenti due su otto per lui questa sera i tiri liberi non sicuramente una grande percentuale anche se la tecnica di tiro non mi sembra affatto malvagia con Brino che adesso va a ricevere in ala cerca sotto canestro ancora una volta malattia che prova a giocare spalle a canestro si gira tiro difficile di malattia un po' forzato gran ribalzo però di Rizzetto tiro forse col braccino da parte del numero 20 dove andare un po' più deciso Rizzetto e sta infatti per rientrare Bertola ecco qua Gambetti che prova ancora a cercare Galassi si torna in angolo da Pesino ancora cercato Gambetti mette giù palla con la mano destra Gambetti ancora in angolo per Pesino grande difesa di Cordenos i piedi sono fuori dal campo e la rimessa sarà a bianco verde con il punteggio che vede la squadra di coach Paolo Montena condurre per 45 a 43 con 5 minuti e 43 secondi da giocare rimessa Cordenos esce tra gli applausi Marco Stolfo ed entra il capitano Stefano Bertola in questo momento forse miglior quintetto a disposizione per coach Montena con Canzi malattia Brino Rizzetto e Stefano Bertola malattia cerca ancora Canzi Piccaroll con Rizzetto che poi va ad aprirsi ancora per Bertola sotto canestra arriva il fallo di Francesco Gambetti ma la partita è più viva che mai chiama lo schema special Montena sulla rimessa dal fondo schema provato e riprovato in allenamento ecco la ricezione di Canzi in angolo cerca ancora Bertola consegnato per malattia si torna sempre dal leader offensivo dentro per Rizzetto 5 secondi per andare al tiro fuori per Canzi Canzi rischia di perdere palla poi tira con un giocatore sotto le sue gambe rischia anche di farsi male di scavigliarsi qua Canzi sbaglia la conclusione che era assolutamente di grandissima difficoltà ecco allora Pampani in palleggio cambia al lato per Galassi in angolo per Pesino da 3 punti sorpasso della fortitudo con la tripla del capitano si fa sentire il pubblico ospite in questo frangente con malattia che adesso va in palleggio a servire sotto canestro Rizzetto che fa davvero fatica contro Lenti e allora arriva il recupero di Galassi 2 contro 1 appoggio sbagliato clamorosamente da Francesco Gambetti davvero un regalo questo errore del numero 18 con malattia che adesso va benissimo da Stefano Bertola 2 punti assist splendido di Filippo Malattia Luca si malattia e Bertola Bertola e malattia sempre loro che in questi momenti difficili vengono fuori dimostrando la loro readership adesso sicuramente con l'entrata di Lenti in campo infatti vediamo che prendere in basso in attacco dicevo con l'entrata di Lenti in campo la musica è sonoramente cambiata per Cordenons che deve fare meglio tra le fuori e in attacco deve trovare soluzioni pulite e non forzare uno contro uno inutile Cordenons sicuramente in debito di chili e di centimetri un po' da tutta la stagione ma non l'ho mai vista soffrire tanto quanto oggi contro un lungo come Giovanni Lenti che infatti adesso è entrato in campo ha fatto completamente andare nel pallone la squadra di coach Paolo Montena che non riesce più a trovare tiri comodi in attacco a parte l'ultimo con Bertola servita la grande da Malattia qua addirittura riesce a segnare il primo tiro libero lui che sta tirando davvero male Lenti sbaglia il secondo di Prassi allora rimbalzo con Malattia che adesso in palleggio serve Canzi cerca di smarcarsi Stolfo riceve alla fine Marco Brino ancora per Canzi può provare il tiro dalla media si butta invece dentro Bertola aperto da tre punti importante tripla di Stefano Bertola la tripla del capitano quanto importante l'apporto di Stefano Bertola tanto quanto quello di Filippo Malattia in tutte le partite della 3S ma questa tripla è davvero di vitale importanza più tre Cordenons 3.40 da giocare nell'ultimo e decisivo periodo con Galassi che va a ricevere va dentro ancora da Giovanni Lenti scarico e arriva a recupero una cosa positiva finalmente anche da Marco Brino che adesso può accendersi eccolo qui il numero 7 difesa molto pressante da parte di Pampani si butta dentro Bertola strepitoso il capitano va a guadagnare un fallo Andrea Lunetta con due tiri liberi si è svegliato Stefano Bertola Stefano Bertola si è svegliato e sta mostrando a Lenti come nonostante intanto time out della fortitudo dicevo Stefano Bertola sta mostrando a Lenti che abbiamo già detto ha avuto presenze in DNB con l'omonima squadra emiliana di poterci stare con lui Cordenons sta trovando ottime soluzioni nella precedente azione c'è stata una perfetta penetrazione di Stolfo che ha liberato in punta Stefano Bertola che arrivava a Rimorchio e non ha dovuto fare altro che alzare la sua dolce mano per mettere la palla in fondo alla retina più tre adesso per Cordenons a 3.27 dalla fine coach Montena sta catechizzando i suoi per un finale di partita assolutamente entusiasmante partita ricca di emozioni come tutte quelle che viviamo insieme sugli schermi di fwgsportchannel.com ricordo che siamo in diretta streaming e che mancano 3.27 al termine della gara 50 Cordenons 47 Fortitudo Bologna e ci saranno due tiri liberi per Stefano Bertola che può portare a due i possessi di vantaggio per la squadra in maglia bianco verde è rientrato intanto il numero 7 Candy troppo importante per la sua squadra tanto quanto Giovanni Lenti ma lo sapevamo sono i due giocatori principali le due armi offensive numero 1 per la squadra di coach Roberto Breveglieri sbaglia il primo intanto Bertola sbaglia anche il secondo lotta rimbalza alla fine come al solito riesce ad impossessarsene Giovanni Lenti si torna da Pampani eccolo qui il numero 23 va dietro la schiena non riesce a servire Candy forse 5 secondi di Pampani alla fine si riesce in qualche modo a raggiungere Lenti cambia tutto per Candy allora si torna da Pesino Pesino per Pampani si butta dentro il numero 23 movimento sospetto alla fine arriva l'errore rimbalzo di Lenti fuori ancora per Candy può alzarsi da 3 punti dimenticato dalla difesa e non si può dimenticare un giocatore come Leonardo Canti tripla del 50 pari per il numero 7 eccolo qui allora Malattia poteva troversi a più 5 si trova invece adesso in parità Cordenons con Canzi che va a ricevere passaggio per Malattia eccolo qui il numero 10 vediamo se gioca su uno contro uno va dentro fino in fondo Malattia lo scarico per Canzi fuori per Bertola altro tiro da 3 punti che non va in questo caso cerca in qualche modo Canzi di ottenere la palla la palla che ha rimbalzato sul piede di Lenti ma viene assegnata a fortitudo questa rimessa non è la prima volta in questa partita Luca no non è la prima volta era assolutamente evidente in questa occasione che la palla fosse di Cordenons però poco male adesso servirà un'ottima difesa e un altro tanto ottimo attacco nell'azione successiva Lenti raddoppiato in post basso arriva al recupero gran difesa come avevi sperato tu Luca in precedenza ecco Malattia che prova a scaricare per Canzi da 3 punti importantissimo questo tiro di Canzi che non va a bersaglio rimbalzo però in attacco di Bertola Malattia dimenticato si alza da 3 solo tabella per lui lotta Canzi rimessa in attacco per Cordenons 10 secondi per andare al tiro 2 minuti e 1 da giocare nel quarto periodo peccato per questa tripla di Malattia forse ha perso un po' il ritmo sì forse ha preso un po' il ritmo sicuramente è stato condizionato al tiro dal recupero da parte di Pesino jumper da 2 punti di Brino che reclama anche il fallo ma non viene fischiato nulla dal duo arbitrale dalla coppia arbitrale ecco quindi Leonardo Canzi che va a ricevere con la pressione di Stolf e la pressione anche di Brino che va a anticipare va a tirare il contropiede segna subisce il fallo e andrà in lunetta Luca col tiro libero supplementare e quanto mi piacciono queste situazioni in cui un giocatore per 36 minuti della partita fa letteralmente i danni per la propria squadra e adesso Brino negli ultimi frangenti con due recuperi con questo fallo e vale sta letteralmente scusate dovevo rispettare il silenzio del tempio di Cordenons dicevo Brino si è assolutamente ha fatto perdonare con questi recuperi e questo 2 più 1 appena confezionato come far dimenticare una prestazione deludente Marco Brino ce lo insegnerà anche in intervista forse nel post partita con Candi adesso in palleggio più 3 Cordenons eccolo qui il numero 7 forse subisce il fallo si alza in step back da 3 punti non va alla conclusione dei 24 poi rimbalzone di Giovanni Lenti che andrà in lunetta con due trili liberi per il fallo di Stefano Bertola stavo dicendo in precedenza che può far dimenticare la prestazione dell'udente Marco Brino ma per farlo per farlo Luca Cordenons deve riuscire a portare a casa i due punti stasera si assolutamente Candy aveva trovato un'altra volta un ottimo tiro in seguito a un perfetto step back intanto Lenti fa come di consueto uno su due e fa ripartire Cordenons che sul più due andrà a cercare di incrementare il proprio vantaggio Brino si alza da 3 punti è caldissimo ma non va al suo tentativo e allora arriva a rimbalzo palla del pareggio per la fortitudo a 1 minuto e 3 secondi dal termine della gara Candy va a ricevere chiama qualcosa Candy poi la palla torna da Pampani Pampani in difficoltà poi si butta dentro fuori ancora per Candy cambia a lato per Pesino poi la penetrazione di Galassi Candy aperto da 3 punti importante tripla sorpasso per la fortitudo 54 Bologna 53 Cordenons 46 secondi e 9 decimi in un finale tutto da vivere alla Palasport di Via Vellaneda Candy è sicuramente in quest'ultimo quarto l'ombra del partito per la fortitudo ha trovato dopo un ottimo attacco dopo un'ottima circolazione di palla ha trovato questa bomba che ha letteralmente spezzato le gambe a Cordenons che è stata in vantaggio per parecchi minuti in questo ultimo quarto e adesso si ritroverà con 40 secondi 46 secondi e 9 dalla fine a gestire un attacco che dire di importanza capitale e riduttivo Matteo e si altro finale al cardiopalma qui a Cordenons time out in cui entrambe le squadre vogliono parlare a lungo gli allenatori sanno che questo è un finale decisivo soprattutto per Cordenons che necessita di vincere questa partita fortitude in piena zona qualificazione all'interzone in ottava posizione mentre Cordenons in dodicesima con 10 punti deve assolutamente trovare la vittoria stasera e si trova però sotto di un punto in questo momento in campo ci sono Malattia Bertola Rizzetto Brino e Stolfo per fortitude invece Lenti Pesino Galassi Candy e il numero 23 Andrea Pampani si fa sentire il pubblico di Cordenons questo è un attacco come hai detto tu in precedenza di vitale importanza per la squadra di coach Paolo Montena vediamo cosa ha disegnato l'allenatore della squadra in maglia bianco verde di rimessa difficile rischia i 5 secondi la squadra di casa poi si torna da Malattia Stolfo per Rizzetto ancora per Brino 18 secondi c'è tutto un possesso da giocare con Stolfo dentro ancora per Brino ricezione difficile ricezione difficile fallo subito istantaneo di Brino 35 secondi da giocare e due liberi per Andrea Pampani attacco gestito sicuramente male Matteo da parte di Cordenons ora ci saranno due tiri liberi per Andrea Pampani che segna il primo e porta più due la propria squadra si ha segnato il primo freddissimo Andrea Pampani in un momento davvero importante sul più due adesso al secondo tentativo segna solo rete anche il secondo altro minuto di sospensione chiamato da coach Paolo Montena meno tre Cordenons che deve andare a cercare il tiro pesante si le opzioni potrebbero essere due quelle ipotizzate da coach Montena in questo frangente 35 secondi e 4 sono tantissimi nella palacanessa sono un'infinità quindi coach Montena appunto potrebbe scegliere di andare a provare a fare un canestro da due punti un canestro veloce per poi eventualmente difendere forte avere i pochi secondi che li rimarrebbero per andare a cercare il tiro della vittoria oppure come hai detto tu potrebbe essere un'idea tirare da tre punti comunque in maniera veloce sperare di impattare a quota 56 e poi difendere forte per cercare un supplementare vedremo cosa sceglierà coach Montena e vedremo cosa succederà in campo probabilmente l'indiziato numero uno per prendersi questo tiro sarà Filippo Malattia ovviamente Luca se la difesa della fortitudo glielo permetterà sappiamo è sempre l'osservato numero uno rientrano in campo allora le due squadre rimesse in attacco per Cordenossi in virtù del time out che ricordiamo nell'ultimo periodo fa portare la palla oltre la linea della metà campo gli ultimi due minuti ovviamente si occupa della rimessa proprio malattia andiamo a vedere questo possesso importantissimo palla buttata via però recuperata da Marco Brino che pesta la linea pesta la linea per due volte consecutive Luca non si è riuscito a mettere la palla in campo con facilità la prima volta alla fine si era riuscito in qualche modo a iniziare un gioco d'attacco in questo caso arriva la palla persa adesso questa diventa una difesa importantissima anche se la partita sembra essere sfuggita di mano per i giocatori di Paolo Montena sì le ultime due rimesse che apparentemente sembravano uguali Matteo così mi è sembrato hanno portato a due palle perse sanguinose da parte dei biancoverdi ora anche in questo caso le scelte potrebbero essere molteplici si potrebbe tentare di difendere alla morte visto che mancano 33 secondi e poi negli ultimi 7, 8, 9 secondi cercare di andare a trovare il tiro da tre punti per il pareggio oppure fare subito fallo e giocarsela sulle brutte percentuali tiri liberi degli avversari vedremo cosa succederà personalmente conoscendo Paolo Montena penso che chiederà una difesa di intensità massima ai suoi in questo ultimo penultimo possesso per cercare il recupero e cercare poi di andare a piazzare la tripla del pareggio vediamo allora la scelta di Cordenons rimessa affidata intanto a Gregorio Galassi eccolo qua la ricezione di Leonardo Kandi in palleggio Kandi ancora Kandi molto bene va in angolo da Pampani gira per Pesino si torna in angolo ancora per Galassi jumper che non va riesce però a riconquistare il pallone 6 secondi per andare al tiro 5 adesso Pesino si arresta cade all'indietro da due punti non va rimbalzo di Brino 10 secondi per Cordenons butta via la palla Brino e delle palle perse di questa partita questa poteva essere la più sanguinosa non è così perché la palla viene persa a sua volta anche dalla parte della fortitude allora ci saranno 5 secondi e 3 per provare a pareggiare questa partita non ci sono più time out per coach Paolo Montena ci sarà probabilmente la scelta del fallo per la squadra ospite che si trova in vantaggio di 3 punti difficile mettere la palla in campo ecco Malattia che va a subire il fallo andrà in lunetta con due tiri liberi e poi bisognerà provare a sbagliare il secondo andare al rimbalzo a catturare questo rimbalzo non sarà sicuramente facile con Giovanni Lenti in campo si coach Breveglieri stava chiamando durante la rimessa di Cordenons a gran voce di spendere il fallo così è stato adesso Filippo Malattia avrà l'ovvia scelta di segnare il primo e tentare tentare di sbagliare secondo cosa che diventa obbligatoria adesso sperando in un rimbalzo offensivo dei propri compagni sbaglia la seconda allora malattia non arriva il rimbalzo offensivo arriva il rimbalzo come al solito di Giovanni Lenti arriva anche la vittoria della Fortitudo Bologna finisce Cordenons 53 Fortitudo 56 l'andata era finita 56 a 52 quindi punteggio quasi identico peccato perché Cordenons ha giocato davvero una grande partita si è bloccato qualcosa negli ultimi minuti quando contava di più la Fortitudo trascinata dalla sua coppia ad oro Leonardo Candi e Giovanni Lenti è riuscita a portare a casa a questa vittoria Luca i tuoi migliori in campo da parte di Cordenons assolutamente Filippo Malattia e Stefano Bertola come nel precedente occasione contro Mestre e per quanto riguarda Bologna non possiamo che citare il centrone Giovanni Lenti che seppur non abbia dato un sostanziale contributo a livello realizzativo ha preso tutto quello che si poteva prendere sotto i tabelloni in termini di rimbalzi e poi vabbè cosa te lo dico a fare Matteo Leonardo Candi un talento esagerato che nell'ultimo quarto è venuto fuori e ha deciso la partita e allora ricordo il punteggio Fortitudo 56 Cordenons 53 non arrivano gli sperati due punti per Cordenons allora io non faccio altro che salutare tutti i nostri telespettatori del Friuli Venezia Giulia ma anche i telespettatori dell'Emilia Romagna soprattutto quelli di Bologna che ci avranno sicuramente seguito un saluto a casa allora un ringraziamento da parte di Matteo Consonni e Luca Gelormini Grazie a tutti